Il Molise esiste, combatte e resiste Il Molise esiste, combatte e resiste Il Molise esiste Il momento più divertente di tutto questo lavoro Diciamo che è stata la parte dove ci siamo ritrovati tutti a suonare insieme Su questa splendida collina dove contemporaneamente si poteva osservare sia la Puglia che il Gran Sasso Quindi due regioni limitrofe in un unico punto È stato molto molto bello e da rifare assolutamente Lo rifarei adesso su due piedi Aspettative per il futuro per cantine riunite e band? Credo che questo video dei social e di Youtube sia un orizzonte che deve essere esplorato meglio Perché la visibilità che si ha oggi, sia sui social network, sia su Youtube Sia notevolmente aumentata negli ultimi anni Ed è un orizzonte che dobbiamo assolutamente prendere Secondo te una frase della canzone che più di tutte Possa riassumere il Molise nel suo colore e nella sua storia? Ce ne sono parecchie di queste frasi nel nostro testo Checco, penso che la frase più bella Che sarebbe che coiamo bella Roccaraso E poi ce ne sono altre come detto il Molise esiste, combatte e resiste Monti, laghi e fiumi, valli senza più confini Che raccontano veramente la nostra regione Che è spettacolare e bellissima E il molisano ovviamente è una vera corazzata Una terra sannita che appunto combatte e resiste, forte e valorosa, che va promossa, fatta conoscere e celebrata. Beh, certo, come abbiamo già detto, però ci teniamo che questo nostro lavoro non rimanga confinato all'interno del territorio molisano. È un modo per far conoscere, sì, il Molise, ma che sia, come diceva Peppe, che si apra all'Italia, che si apra all'Europa, al mondo, insomma. Perché deve essere così? Non dobbiamo rimanere chiusi, anche questa fosse una pecca del molisano. Se il molisano aprirà i suoi orizzonti, probabilmente anche questa regione volerà, prima o poi volerà e diventerà un punto bellissimo, una zona bellissima da visitare e da vivere. Dopo dieci anni di successo, di amicizia, di musica in piazza, di allegria portata in ogni dove, il video. L'idea di realizzare un lavoro così, com'è nata? Ma abbiamo, è venuto fuori questo brano, no? Ripeto, da un'idea di Gian Vitale, poi Peppe ci ha messo del suo, Nicola, anche Marco Delia, che è il batterista, che in questo momento è assente. Beh, ognuno ha messo del suo. Da lì ci siamo chiesti, ma per quale motivo non fare, non associare delle immagini a questo brano? E immediatamente ci siamo trovati tutti d'accordo nel voler fare un video. Però fare una cosa fatta bene, di fatti ci siamo rivolti ed è stato di grande aiuto ad un professionista che lavora molto per questa regione, che è William Mussini, al quale abbiamo detto che cosa e come volevamo realizzare questa storia. L'idea di questo straniero che arriva in Molise, che il navigatore non gli dà nessuna destinazione, poi percorrente, lui comunque sbalordito, frastornato, perché comunque disorientato, ecco il termine esatto, mano a mano trova un po' tutti, dal passaggio prima al nostro cantante, poi incontrerà ognuno di noi nelle specificità, il pescatore, chi vende gli asparagi, l'oste, chi controlla il traffico nella frana, il ciclista, perché il Molise è bello da girare anche in bicicletta, è un messaggio forte anche questo. E poi alla fine tutti quanti lo indirizziamo praticamente in questa collina, in questa altura, dove noi cantiamo. E da lì William Mussini è stato molto bravo a interpretare perfettamente quello che gli avevamo chiesto. Tempo senza fine, senti noi che la viviamo, siamo le cantine, monti, leghi e fiumi, senza limiti e confini, questo è il nostro mondo, non vogliamo più buffini, gente sana che lavora, anche signorata, il molisano e il tosto è una vera corazzata, il popolo romano che tutto ha conquistato, ai piedi dei sanniti, battuto si è fermato, scompito dall'orgoglio e dalle nostre braccia, anche se di questo della storia non c'è traccia. Stupisce, gioisce, ferisce, il Molise esiste, combatte e resiste, e per chi capisce, stupisce, ferisce, il Molise esiste, combatte e resiste. Grazie a tutti coloro che ci sostengono ormai da dieci anni, in particolare in questo momento particolare, che hanno diffuso questo video e che danno modo anche a persone che prima non ci conoscevano di conoscerci. Chiunque ci può seguire sulla nostra pagina Facebook, sul sito internet www.cantineriunite.org, un grazie a tutti quelli che hanno comunque sostenuto la band nei dieci anni, in particolare lavorato e sostenuto anche i lavori per la realizzazione di questo video e la realizzazione anche e il voler essere in un locale storico e importante di Campobasso vuol dire che comunque ci sentiamo molisani e lo abbiamo deciso di fare in un punto di riferimento per molti giovani da diverse generazioni. Io se posso volevo ringraziare mia nipote Sofia che mi ha sostenuto in tutti questi anni. E vive il Molise, la sua storia, i suoi colori, i suoi sapori e la sua musica. Il Molise esiste. Cari amici, e così dai membri delle cantine, riunite band, Gian Vitale, Alberto, Nicola, Peppe, Michele e Marco che non c'è. Vi saluto, vi ricordo che ci potete seguire sul canale 11 e 12 del Digitale Terrestre, sul canale 96 per l'Abruzzo, sul canale 880 per gli amici che ci seguono da Roma a Capitale, sul canale 96 per l'Abruzzo e sul nostro canale tematico, il 212, di Molise Mie e sul nostro sito www.telemolise.com. Con le cantine, riunite band, vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo Viaggio in Molise. Grazie di averci fatto compagnia. Neve, vento, pioggia o sole, catinelle, noi non ci fermiamo a zampogli e mozzarelle e dalle cantine non nasce per caso, checo, i am bell'arrocarasso, stupisce, gioisce, ferisce, il Molise esiste, combatte e resiste. E per chi capisce, stupisce, ferisce, il Molise esiste, combatte e resiste. Stupisce, gioisce, ferisce, il Molise esiste, combatte e resiste. Stupisce, gioisce, ferisce, il Molise esiste, combatte e resiste. E per chi capisce, stupisce, ferisce, il Molise esiste, combatte e resiste. E per chi capisce, stupisce, ferisce, il Molise esiste, combatte e resiste. Ciao Molise!